ragazzi dobbiamo trovare Aberline Eevee è in pericolo quindi le danze si chiuderanno definitivamente quando la musica cesserà i cecchini faranno fuoco devo muovermi ah ecco posso fare ok molto bene con lui mi posso muovere più liberamente c'è un nemico qui per un pelo dai girati che li possiamo solamente stordire ok abbiamo raggiunto il tetto ecco perché i cecchini rispondevano a lui erano i suoi uomini travestiti molto bene molto bene ora si che mi sento a mio agio dobbiamo farli fuori tutti ecco infatti abbiamo il tempo ecco infatti abbiamo il tempo non è un'altra parte non è un'altra parte Aspetta, aspettate Vediamo se lo dobbiamo fregare in un altro modo a questo Ok Perfetto, Eevee non è più in pericolo Forza, forza Oh mio Dio Ok, ragioniamo Perfetto Scannatevi tra di voi Fatevi risparmiare le munizioni Ok Sette su sedici Ora muore pure quello avvelenato Grazie a tutti Perfetto, la prima metà è morta E ragazzi, siete di nuovo in ballo voi Ok, l'altra metà Grazie a tutti Ma che vincerete voi? Vinceremo noi Allora Questo così Attenzione Niente, questi li facciamo uccidere tra di loro Ok Due Questi si stanno uccidendo tra di loro Eccomi qua State fermi un momento Molto bene Grazie a tutti Ma ne è rimasto uno solo Mettiamo fine a questo rumore Oh, metti fine Ok Sare sul tetto E segnala Ok, perfetto Quindi dobbiamo dare il via libera A A Ivy Ragazzi, mi devo allontanare Per un attimo Quindi la registrazione riprenderà proprio in questo punto Ok Prima di completare l'obiettivo finale Piccola pausa e ritorniamo Restate sulle spine Eccoci di nuovo qua Piccola pausa e siamo ritornati Dai andiamo andiamo Ci vorrebbe che Ivi da un bel calcio Negli zebedei a Starric Oh i miei poveri gioielli inglesi Il segreto è che bisogna iniziare con il piede giusto Il segreto è che bisogna iniziare con il piede giusto Io sì Ma tutto bene mia cara Posso forse aiutarvi Detesto i balli si è fatta fottere la collana oh oddio che succede scivola 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 le chiappe proprio se le è grattate tutte accidenti dobbiamo stare attenti se ha preso la sindone scatenerà il suo potere come è accaduto con unity non sarà facile ma cosa fate vi sfrutto ve l'avevo detto ragazzo ma voi non mi ascoltate ho recuperato la sindone vediamo se con ivy riusciamo con ivy riusciamo a dargli una mano ah azzo quindi molto probab- no cara scendi giù dai c'era una letta oh le altre due lettere che mi mancavano cacchio succede oddio dai uuuuuh tosta la ragazza lasciate che rimedi al mio errore ah la sindone lo cura ah la sindone lo cura ah la sindone lo cura caricaci il caricatore minchiaturetto eh secondo me continuerà sempre così dobbiamo trovare il modo di ucciderlo contemporaneamente cazzo 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 caz Oh, giù! Giù! Che bastardo! Oh, oh! Oh, Dio! Quella miseria! Via! Aspetta! Sali! Di qua, di qua, di qua! andate via dalla mia città si venga taggata isso tu uu uu eri forse dai si para pure i proiettili oh oh dai non ti farei e stavolta uuu speriamo che non ci scappa un altro basso senza me adesso state esagerando io volevo farne un paradiso la città è del popolo voi siete solo uno ma sono il capo dell'ordine lo eravate signor Starric lo eravate molto bene l'impero è finito qui con la morte di Starric ma cosa accadrà ora? meglio così vero? indosserai la Sindone e governerai Londra ciò che dà lo toglie a qualcun altro e invecchieresti senza di me somiglieresti a papà preferirei morire tu la indosserai? ora che hai rimediato a tutto al caos che ho combinato non potrei competere Jacob Frey che rinuncia chi ti ricatta? George? non oserebbe mi sei mancata anche tu non possiamo ricominciare da capo non chiedo di meglio inizio a credere che papà non avesse sempre ragione Harry c'è tutto un mondo là fuori con Londra al centro forse non è al centro ho corso come un pazzo tranquilli io tornerò sul treno non ho non ho rovinato tutto al contrario Harry che belle le tofine da oggi agirai sul campo con me la regina vittoria che ringrazia degli assassini bell'idea Freddy signora Aberlein prego vostra maestà miss Frey vi conoscete già? non te l'ho detto? il signor Aberlein afferma che voi tre vi avete salvato la vita è tutto vero? lo è vostra maestà Evie Frey venite e voi? mio fratello maestà Jacob Frey e questo è il signor Henry Green signor Frey signor Green in ginocchio o stiamo per diventare cavalieri Sir Frey alzatevi ora siete tutti membri dell'ordine della giarrettiera grazie vostra maestà se siete leali come dice il signor Aberlein forse ci rivedremo il sergente Aberlein esagera sempre vostra maestà conto su di voi miss Frey maestà se ne volete un po' vi ho tenuto la torta e che simpatica papà sarebbe orgoglioso dama Evie Frey Sir Jacob Frey gara fino al treno ci sto bene ragazzi e abbiamo concluso le vicende dei gemelli Frey con questo è tutto alla prossima ragazzi alla prossima si intende il prossimo video comunque la serie è finita spero che sia stata sempre di vostro gradimento di nuovo alla prossima ciao a tutti i nostri a tutti i nostri a tutti i nostri Grazie.